Wewe ragazzi e bentornati! Oggi, oggi, oggi ragazzi proveremo ad affrontare una tempesta di categoria 4 senza ovviamente combattere, puntando a farla FK ma soprattutto puntando a farla senza un costruttore Vi ricordo ragazzi che Salva il Mondo è un gioco bello appunto perché è sperimentabile in qualsiasi ambito e con questo video daremo inizio a una nuova serie dove andremo a sfruttare parecchi trucchetti, parecchie build diciamo per affrontare le missioni di tutti i giorni Allora, questo episodio si differenzierà molto comunque dal resto di tutta la serie in questo episodio andremo ad affrontare appunto una categoria 4 a FK senza combattere ma in questa serie proveremo appunto a sfruttare le varie mappe e cercheremo di affrontare tutte le missioni sfruttando al massimo le build ma le build di cosa? Non le build di eroi oppure di armi puntando comunque a ritornare un po' su Salva il Mondo Vecchio, no? Rimodernizzato comunque per il 2020 quindi andremo sì ad affrontare magari missioni in cui fightiamo con le trappole magari missioni dove è più conveniente farle diciamo a FK oppure a metodo STAL il metodo STAL per chi non lo sapesse è quel metodo che si affronta che abbiamo già visto moltissime volte in passato in cui si utilizzano gli sbalzatori da terra piuttosto che da muro e si gioca diciamo a far rimbalzare sempre gli zombie indietro procurando la struttura con una base ipotetica piuttosto che con trappole che guariscono le strutture insomma i modi sono veramente infiniti e ragazzi fatta questa premessa io direi che possiamo anche mandare la sigla regia? Allora ovviamente essendo una tempesta di categoria 4 ragazzi diciamo che ho voluto cercare appositamente una missione che mi piantasse tutti gli atlanti in terra poi comunque con questa particolare build più atlanti sono in aria più risorse risparmierete sia per quanto riguarda ferro e mattone ma sia per quanto riguarda anche le trappole ebbene dopo aver trovato i 4 blub necessari all'attivazione della missione e dopo aver soprattutto trovato i 4 atlanti e diciamo fatto sparire qualsiasi accampamento circostante non ci resta che cominciare a costruire ovviamente per rendere il tutto più fattibile da tutti andrò a affrontare questa missione diciamo senza un costruttore quindi a trovare un metodo per farlo senza il costruttore non è l'unico metodo e ci tengo a precisare che ce ne sono molti altri anche magari più efficienti più sbatti possiamo dirlo vabbè comunque nel corso di questa serie vedremo anche le varie build questa è una build molto molto semplice adatta a chiunque di voi basterà comunque possedere pochi progetti di trappole sostanzialmente basta il progetto comunque dei pugni a muro e di qualche trappola da muro che curi gli edifici ancora meglio se siete dotati di tanta durevolezza nella squadra dei supersiti così potete diciamo mettere la perca appunto che aumenta la salute direttamente su pugni a muro e andare già a risparmiare 4 trappole che vedremo tra poco e poi personalmente utilizzo 4 congelanti ma possiamo benissimo aggiungere un muro in più e utilizzare una luce al muro piuttosto che appunto le trappole congelanti per ogni atlante è scoperto da tutti i lati quindi 4 trappole congelanti 4 pugni a muro e 4 acule in questo caso tra virgolette che curano la salute potete sostituire le trappole congelanti con delle luci a muro a patto che comunque aggiungiate dei muri e adesso vi spiegherò bene il procedimento l'unica cosa un po' fastidiosa comunque dei 4 atlanti è appunto il doverli buildare tutti e potenziare tutti quanti quindi in media si consumano circa 3000 materiali per esempio se faccio tutti gli atlanti di ferro si consumano più o meno 3000 di ferro 3500 poi ci sono atlanti che vanno coperti differentemente in base alla posizione in cui spawnano magari atlanti che vanno comunque non difesi se spawnano per esempio in aria piuttosto che magari sopra una collina dove basta comunque una struttura per coprirli le situazioni sono veramente moltissime che ci possono capitare e ad ogni situazione possiamo comunque prendere dei provvedimenti l'importante è capire il concept base allora dovendo buildare comunque tutto da solo spenderò un botto di materiale ma è chiaro che comunque andando a affrontare questa missione con un team se siamo in 4 persone e ogni persona si prende cura di un atlante solo beh capirete che è un big win per tutti poi senza contare il fatto che comunque sto affrontando questa missione con un ninja basterebbe mettere un costruttore con una base una base su ogni atlante con il riciclo e non solo abbiamo più sicurezza sulla difesa dell'atlante in sé in quanto con le strutture che hanno più vita in più rallentano e in più recuperano anche la salute beh stiamo il triplo più tranquilli rispetto comunque a giocarla con un ninja no? e in più possiamo comunque contare sul riciclo della base e approfittarne per recuperare qualche materiale dopo aver comunque ripulito tutta la zona circostante da accampamenti casette, strutture, ho tappato persino i buchi ragazzi perché comunque diciamo che se gli zombie cadono nei vari buchi è un po' un problema ricordiamo che comunque il principio di questo metodo è appunto il non uccidere zombie il che equivale anche a non farli despaunare se loro cadono diciamo in un sotterraneo e non hanno il modo di risalire alcune volte si bloccano lì ma alcune volte despaunano direttamente allora partiamo con la costruzione innanzitutto copriamo gli atlanti proprio come siamo sempre stati abituati a farlo senza fare scale inverse quindi facciamo la solita piramide e lasciamo diciamo il tetto non costruito attenzione e facciamo un piccolo box sul tetto semplicissimo quindi rifacciamolo piramide niente tettuccio e facciamo un piccolo box qua lascio l'apertura per comodità sempre la solita piramide e abbiamo anche l'ultimo atlante quindi l'ultima piramide a questo punto per sicurezza ragazzi faccio dei muretti anche se ho già provato ad affrontare diciamo tante volte questi atlanti anche al 140 e non ne ho mai avuto bisogno però qualche volta succede che comunque qualche zombie inizia ad attaccare gli angoletti noi per non rischiare possiamo fare così mettiamo dei muretti invertiti ok per tutta la superficie di tutti gli atlanti diciamo a questo punto ragazzi sto solamente potenziando il tutto quindi porto tutto il metallo al 3 e poi vi spiego che trappole utilizzare allora dentro ad ogni box che abbiamo creato ci andiamo a mettere i 4 aculei che sono quelli che diciamo cureranno la struttura da dentro è molto positiva questa cosa rispetto comunque a buttare sulla seconda opzione che vi dicevo prima no di mettere la perk di guarizione appunto al pugno a muro che andremo a mettere sull'altra superficie di questi muri adesso vi faccio vedere perché diciamo che nel momento in cui magari il pugno finisce l'utilizzo e quindi voi non siete sicuri che il pugno vi duri tutta la missione beh neanche la perk di guarizione a quel punto avrà più effetto mentre facendo così beh gli aculei dentro diciamo che non finiranno mai ed è vero che senza il pugno a muro non farà in tempo a guarire però diciamo che se mancano pochi secondi potete cavarvela un po' così no uno standard un campo lento insomma sapete come funzionano queste cose no poi procediamo con i pugni a muro allora ragazzi c'è da notare una cosa molto fondamentale qua innanzitutto potete benissimo optare per utilizzare dei pugni con una sola velocità di ricarica e mettere diciamo la congelante sotto con una doppia perk di ricarica io in questo caso le ho utilizzate entrambi con la stessa velocità di ricarica però facendo ciò dovete stare attenti perché diciamo che se uno zombie è congelato e viene sbalzato dal pugno a muro riceverà pochissimo di danno che in una zona al 160 non è un danno così tanto essenziale da farci killare qualsiasi tipo di zombie in zone inferiori invece purtroppo potremo addirittura killarli quindi diciamo nei muri che abbiamo messo internamente possiamo editarli e farli tornare a grandezza normale semplicemente mettere una luce a muro al posto della congelante invertire le piramidi ai lati per non far picchiare gli zombie ai lati anche quella è un'opzione comunque in questo caso vi faccio vedere con le congelanti il discorso che vi dicevo e l'affronteremo così questa missione intendo proprio su un muretto del genere allora procediamo con le congelanti su tutte le scale di tutti gli atlanti ok dopo un po' di uccisioni di abietti che ti fanno esaurire diciamo un po' il sistema nervoso centrale soprattutto mentre stai buildando ma no raga non vi lasciano in pace un secondo dopo aver comunque buildato in santa pace dopo aver pulito bene la zona possiamo avviare la missione allora ragazzi il funzionamento è molto molto semplice però possiamo dire che è ancora una beta di questa costruzione anzi un alfa oserei dire ci sono ancora un po' di tecniche che vorrei provare sinceramente faccio un esempio con la trappola dei gommoni in caduta di una rarità abbastanza bassa per non fare danno e soprattutto con nessuna perk di danno e tanta perk di durevolezza mi piacerebbe provare a mettere quelle in cima piuttosto che utilizzare le congelanti questa è una cosa che vedremo in un prossimo video oppure in un prossimo episodio comunque essendo una categoria 4 ovviamente non è che possiamo puntare a farla al 100% fk ci sarà sempre comunque un po' di timore qualcosa da controllare soprattutto se poi siamo con un ninja no raga diciamoci la verità se siamo con il costruttore e mettiamo le scale come fosse una recupera i dati lo sbalzatore sotto, gli acule che curano, copriamo i tetti con i pavimenti di legno e via si può fare così tranquillamente mentre nel momento in cui siamo da soli soprattutto senza un costruttore diciamo che entrano in gioco tanti scenari possibili tante cose differenti l'una tra loro no? bisogna un po' cercare anche comunque di vedere dove sta andando male se per esempio qualche zombie sta spaccando qualche angoletto andiamo a potenziare appunto il muro che abbiamo fatto dentro possiamo ovviamente fare un pavimento, invertirlo possiamo fare un sacco di cose personalizzabili appunto su questi atlanti però diciamo che ho voluto puntare molto al risparmio soprattutto perché poi comunque in solo stavo già spendendo un sacco di materiali no? su quell'atlante lì precisamente su D mi sono dimenticato di mettere persino le congelanti quindi vado a potenziare questi muretti dentro per sicurezza che poi comunque molte volte succede che finiscono di spaccare magari l'angoletto e poi si rassegnano e vanno direttamente anche loro sulla scala allora beh ragazzi ovviamente come dicevo prima non è una fase ultimata non cercate di copiare sostanzialmente ciò che sto facendo io anche perché non è detto che funzioni a tutti quanti va sicuramente dato un occhio in giro però diciamo che ovviamente stando FK a FK non è neanche bello no? diciamoci la verità per stare proprio a FK a FK possiamo appunto contare su recupera i dati e risparmiare molte molte strutture però nel caso appunto magari delle venture dove sono magari di potenza troppo elevata e voi dovete per forza fare quella difesa di tempesta di categoria 4 beh questa è una valida alternativa è applicabile ovviamente anche se un atlante si presenta mezzo nella collina e mezzo no potete benissimo farlo il principio resta pur sempre quello comunque il muro con dietro l'aculeo la congelante in terra e l'importante è che comunque siano sulle scale perché la congelante è messa così sulle scale sì è vero che ogni tanto pigliano comunque danno ma non così tanto danno o almeno non così spesso come quando andiamo a metterlo comunque in terra no? nel momento in cui loro salgono la salita si congelano poi prima che arrivano su devono già scongelarsi prima di ricevere il diciamo l'impatto del pugno a muro no? beh comunque è un ottimo punto di partenza ragazzi vediamo da una build del genere cosa riusciamo a tirar fuori allora eccoci qua ragazzi sono finiti i pugni a muro su questo atlante diciamo quello attaccato di più da tutti in questo caso cosa potete fare? ovviamente potete mettere o una perk in più di durevolezza ai pugni o mettere dei pugni con una perk di ricarica in meno o avere comunque le squadre full durevolezza io in questo caso non le ho io mi porto dietro il campo lento e lo standard posso compensare così anche se magari certe volte non basta in questo caso come vedete ho gli aculei che sono rimasti dentro alla struttura che continuano sì a curare il muro ma il muro in sé non è che ha così tanta vita come quando abbiamo una base no? anche facendo una recupera ai dati completamente fk vi sarà capitato comunque che esaurendosi una trappola avrete notato sicuramente che anche lì gli zombie riescono comunque a spaccare e niente ragazzi la durevolezza trappole resta ancora una cosa fondamentale in questo gioco anche perché ora in questa missione mi è andata bene dai diciamo la verità ora vedrete il finale ma non sempre vi succederà ciò quindi prestate sempre bene attenzione a tutti i superstiti e soprattutto tutti i superstiti con la durevolezza trappole io ragazzi vi ringrazio della visione vi ricordo che se volete supportare continuamente questa serie vi basta lasciare un bel pollicione in su se invece volete utilizzare il mio codice creatore per supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite e per oggi è tutto noi ci vediamo alla prossima bella bella e bravo che sei arrivato fino a questo punto a guardare il video tu che ci sei arrivato saprai che questa build funziona anche con il mattone non solo con il metallo quindi se avevi qualche dubbio te lo sei tolto ciao 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 ciao